Ciao Tom, ho comprato il nuovo MacBook Pro Touch Bar che è fighissimo, ma ha un problema incredibile, che sono le prese USB-C. Già, quelle maledette prese USB-C che non ci permettono di collegare praticamente nulla, perché le hanno studiate talmente vicine che se voi ci mettete un maledetto adattatore, cosa succede? Quindi, bloccate in automatico la presa a fianco, perché non c'è abbastanza spazio tra le due prese. Hanno fatto questa furbata. Però, in commercio ci sono un sacco di prodotti molto interessanti, tra cui questo che consiglio caldamente, che vi permette di collegare le due prese USB-C. E, magicamente, vi dà a disposizione un USB-C che vi permette anche appunto di ricaricare, due USB 3.0, un'altra USB-C, in questo caso che non permette la ricarica, ma che è staccata dalla prima, di modo che se volete utilizzarle entrambe contemporaneamente potete farlo e non è una cosa stupida. E poi abbiamo un ingresso per scaricare le nostre microSD e per caricare anche le SD classiche, normali, se avete delle telecamere, tipo la Sony che sto usando io, adesso ha l'SD e non la microSD. Ma, tadam! Ultimo sportellino, addirittura anche l'ingresso per l'HDMI, quindi super completo e anche esteticamente carino. Ho sbagliato purtroppo colore. Io ho un MacBook Pro, è questo qui, che è grigio siderale. Vedete che inserisco i due USB-C all'interno degli alloggi e mi si crea praticamente questo spazio ulteriore per poter andare a inserire USB-C, USB 3.0, SD, microSD e HDMI. Bene, questo prodotto secondo me è indispensabile nella nostra valigetta se avete un MacBook Pro 15 o 13, comunque un MacBook Pro di quelli con Touch Bar che hanno solo le prese USB di tipo C. Se vi è piaciuta questa recensione, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, qui sotto troverete il link per andare ad acquistare questo simpatico gioiellino elettronico per il vostro MacBook Pro. Un saluto a tutti quanti, non mi resta che salutarvi, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina per sapere quando arrivano i nuovi video. Cliccate mi piace anche su questo video, condividetevelo se pensate che possa essere utile e noi ci vediamo con la prossima recensione. Ciao a tutti!